Buongiorno, 17 novembre, ore 7, intravedo del rosso, è un cielo più pulito che mai, corro sul tetto a piazzare la videocamera e riprendere un'alba che secondo me sarà fantastica. Immagino che non si veda niente, ma fuori abbiamo 5 gradi. Mamma mia, anche oggi paura. E' di nuovo passato Paolo a trovarmi, conosciuto Alcro, camperista con questo motoron fantastico, un magnum lungo come sbaldo. Questa volta sono riuscito a offrirti un caffè. Te lo sei dovuto bere senza zucchero, perdona tanto perché io non utilizzo zucchero, ma mi premurerò di procurarmi dello zucchero per i miei ospiti. Grazie ancora della visita, mi ha fatto estremamente piacere. La giornata è sempre da paura. Oggi sto facendo un po' di cosine qua col computer. Ho visto che siete in tantissimi ragazzi. Grazie a tutti. Vi sento vicini. Molti commentano come se la mia situazione fosse disastrosa a dover stare qua, ma non è assolutamente così. Siamo in un periodo in cui c'è gente che sta molto peggio di uno sfigato come me, che sta qua in un'area sosta, comunque all'aperto, che gode di ottima salute. Io comunque sono vicino a tutte le persone che stanno passando un periodo veramente di merda. Massima solidarietà a chi si sta facendo un culo così negli ospedali, a tutti i medici, gli infermieri. Scusate, sembra un discorso così preparato o scontato, ma non lo è assolutamente. La situazione è di critica e dobbiamo stare attenti. E boh, sarà tutto solo un brutto ricordo. Abbiamo fatto le 15. Eh, il sole cala eh. Sì. Già le 3. Guardate dov'è. Pazzesco, è già quasi ora di salutarlo. E sono le 3. Giornatina è passata così a trafficare al computer. Sole, ciao, che tristezza. Fa anche un bel frescolino fuori. Abbiamo già acceso le luci in casa. È venuta l'ora di ritirarsi. Non so, non ho ancora fame eh. Però, come solito c'è un macello qua. Magari mi faccio una bella padellata di broccoli. Abbondante. Al vapore. Io adoro i broccoli. Mangerei solo broccoli. Ma la stagione è questa e bisogna approfittarne. Ortaggi di stagione ragazzi. Se spadella. E' passata una mia amica poco fa. Che mi ha portato. Gnocchi fatti da lei. Alla zucca. Già cucinati. Senza parole. Hanno. Uh, un profumo. Guardate che roba. C'è qua da concorso eh. Io a tutte queste cose passerei solo il trasparente sopra. E le esporrei in vetrina. Cioè è un piacere per gli occhi. Oltre che per la bocca. Cioè non. Ok. Poi visto che io adoro la pasta integrale. Di vari grani. Saraceno. Kamut. E menate varie. E questa è un altro pezzettone. La molisana. E' una pasta. Cosa c'è oltre il 10 lode? Ma cos'è? Spaghetti integrali della molisana. Se doveste trovarla in giro assaggiatela. Perché c'è da vergognarsi di avere delle papille gustative. Da vergognarsi di avere dei denti per poterne masticare la consistenza. La molisana. Voglio diventare il vostro testimone alle assaggiatore. Ho bisogno di bere un bicchierino d'acqua. Prima di svenire completamente. Anche perché non è finita. Ah. E' dulcis infundus. E' una borsata di mele raccolte dal suo albero. Queste mele non le trovate in giro. Sono molto croccanti. Hanno un lievissimo grado di acidità rispetto alle golden e quelle cose super dolci. Guarda vi faccio solo un paragone. Questa è una mela da supermercato. Cioè perfetta no? Sembra disegnata al computer. Bellissima. Colore omogeneo. Bollino. Non ha niente. Non ha il buco del bruco. Dolce. Buona. Queste qua. Allora non ce n'è una uguale all'altra. Hanno tutte queste imperfezioni che le rendono uniche. E anche nel gusto. E questo grado di acidità e croccantezza che hanno. Le altre non ce l'hanno. Questo è il gusto della mela vera. Le altre sono OGM. No ma da paura. Cioè. Hanno un profumo che queste qua. Cioè ma non c'è paragone. Se vi bendassi e vi mettessi sotto il naso. Questa. È possibile che voi mi diciate. L'hai già messa? Sì. C'era sotto il naso. Ah sì. Sì. Non sento niente. Se avvicino questa al vostro naso. Ma solo avvicinandola. Dite. No. Ma cos'è sta roba? Questa. È la mela. La mela per antonomasia. Boh. Serata svenimento. Grazie. 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 Wow. Basta. Ok. Madonna Svaldo. Ma cosa sei? Ma quanto sei figo anche di notte.